Non è scontato partire con un obiettivo e portarlo avanti nel tempo con decisione, soprattutto quando si tratta di settori giovanili. Eppure la pallavolo mordano ha sempre avuto le idee chiarissime. Le ragazze del nostro paese devono crescere, dal lato umano e sportivo, per far parte della prima squadra, fanno sapere dal club bianco-blu. E la gioia con cui le giovani pallavoliste affrontano gli allenamenti la dice lunga sulla bontà del progetto mordanese. Il nostro principale obiettivo è quello di fare crescere i bambini e le bambine, ma anche le ragazze, in un ambiente sano dove fare sport, in particolare la pallavolo, nel rispetto delle regole. Vogliamo anche coinvolgere le famiglie e già da qualche anno per questo abbiamo creato un gruppo che chiamiamo Vintage, dove giocano appunto i genitori delle nostre giovani atlete. Più abbiamo diverse ragazze, sia della prima squadra che del settore giovanile, che ci vengono ad aiutare con le più piccole, questo perché ci sono appassionate alla nostra società e quindi vengono volentieri a dare una mano divertendosi con il Volle S3, come in questo caso, oppure anche con l'Under 12 e l'Under 14. Proprio per venire incontro alle esigenze delle famiglie anche d'estate abbiamo pensato di ricominciare ad organizzare campi estivi da un anno a questa parte e abbiamo già avuto diverse famiglie che hanno aderito e contiamo negli anni di incrementare di nuovo il numero degli iscritti al periodo pre-Covid. Ciao, sono Clara e sono in pallavolo Mordano da quando avevo 8 anni, mi sono sempre fatta allenare da tondini e spero di riuscire a insegnare qualcosa di quello che ho imparato in questi 15 anni di pallavolo anche alle bimbe che vedo qui tutti i giorni. Ora gioco in Serie C nel solo Volley e spero di trasmettere a tutti i bimbi che vedo in palestra tutti i pomeriggi un po' della passione che ho coltivato in questi anni. Sono Alessandra, ho 14 anni, gioco nell'Under 16 e ho avuto anche la possibilità di allenare le più piccole trasmettendo la passione per la pallavolo e una delle cose invece che mi piace di più nel giocare è proprio l'adrenalina e del fatto che qua mi sento a casa. Sono Cassani Matteo, allenatore della pallavolo Mordano dove si respira pallavolo in un ambiente sereno dove esercitare questo gioco, siamo sostanzialmente tra gli allenatori che si occupano di gestire l'attività con cui c'è un perenne e costante confronto e scambio di idee, punti di vista sia tecnici che gestionali e caratteriali e di tutto quello che riguarda la sfera della pallavolo che non è solo estrettamente un semplice gesto tecnico sportivo ma anche un'occasione di educazione, evoluzione dei ragazzi che per mezzo della pallavolo possono anche diventare persone migliori.